In questo video voglio spiegarti chi sarà il tuo prossimo amore e quando arriverà. Per prima cosa però iscriviti ovviamente ai miei canali YouTube, al nuovissimo canale, al mio nuovissimo canale YouTube Esoterismo e Spiritualità con Massimo Terramasco. Non perdere questa possibilità, veramente non perderla perché è una possibilità unica che tu hai per migliorare le tue conoscenze legate all'esoterismo. E ti ricordo inoltre di iscriverti anche a tutti gli altri miei canali YouTube, ovviamente, Crescita Personale, Felicità Benessere, Amore Autostima e Massimo Terramasco. Attivando la campanella così riceverai la notifica del nuovo video su ogni canale, inoltre è possibile abbonarsi, quindi scegli l'abbonamento che fa per te se ti interessa. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, vicino a tastino iscriviti. Ma veniamo al tema. Il tema è molto interessante. Chi sarà il tuo prossimo amore? Quando arriverà? È una descrizione dettagliata. Utilizziamo i tarocchi interattivi. Allora, quello che devi fare fondamentalmente è fare la scelta del colore nero, questo del colore rosso o del colore blu. Devi semplicemente scegliere o il nero, o il rosso o il blu. Fai la tua scelta. Allora, prenditi tutto il tempo che ti serve e poi scegli o il nero, o il rosso, o il blu. Bene, io inizio a togliere il blu, inizio a togliere il rosso e partiamo dal nero, partiamo dal nero. Allora, vediamo un attimino chi sarà il tuo prossimo amore. Allora, intanto ci vorrà del tempo. Esce questa carta, te la faccio vedere, rimandare. Quindi, attualmente, non è la situazione migliore per vivere un nuovo amore. Rischieresti di prendere l'uccello per l'anterna. Rischieresti di sbagliarti. Quindi non è il tempo, devi ancora andare avanti. E questo è anche un po' la pigrizia che ti contraddistingue. Quindi, se vuoi trovare delle cose positive, devi cercare di conoscere la persona, di muoverti, di fare. Le cose accadono se noi mettiamo energia per farle cadere. Questo devi tenere presente che è un punto fondamentale. Sarà comunque poi una persona, non sarà la persona definitiva per te, perché nascerà una relazione nell'ambito di un compromesso. Quindi accetterai probabilmente per paura, quindi di rimanere sola, di rimanere solo. E devi imparare invece a lasciarti andare. Perché lasciarsi andare è veramente quello che può trasformare le cose. Quindi lasciati andare. E se ti lascerai andare, senza rimuginare, troverai la tua guida. Troverai una persona che ti potrà dare qualunque cosa. Imparerai anche a seguire il flusso. Allora, quindi la prima persona che ti capita, devi scartarla. Devi scartarla e dalla seconda conoscenza importante potrà nascere un nuovo amore. Questo amore come sarà? Bene, sarà, diciamo, un amore, come dire, eccessivamente, questa non è una bella carta, sarà un amore malato, tra virgolette, nel senso che dovrai superare un po' di attaccamenti per arrivare all'integrazione. Quindi una relazione che parte male, ma tu puoi integrarla. Passare dalla schizofrenia, tra virgolette, all'integrazione, mantenendo giusto l'istacco del risultato e non lasciarti in qualche modo sottomettere, insomma, da questa persona. Dovrai intraprendere un viaggio, dovrai muoversi, dovrai viaggiare. Questo è un qualcosa di molto importante. E superare tutti i sensi di colpa che ancora ti attanagliano. Vediamo un po' com'è questa persona che ti può interessare. Beh, è una persona che non ha ancora chiuso col passato ed è però una persona che dà condivisione, quindi una persona positiva. Potrebbe essere una persona di successo nella vita, nel lavoro e magari un po' troppo dedito a lavoro, diciamo, e professione. Quindi tu devi guardare oltre l'illusione. Oltre l'illusione potrebbe essere la persona giusta, potrebbe essere un farmacista, potrebbe essere una persona molto istituzionale, un notaio, insomma, una persona istituzionale. Quindi questa è la relazione. Però non è la prima persona che ti capita, la prima persona di cui tu ti enamorerai, dovrai lasciarla stare e, anzi, sarebbe meglio, magari una relazione che finirà presto, sarà la seconda persona. Bene. Passiamo ora a chi ha scelto il colore rosso. Mettiamo via il colore nero, vediamo che ho scelto il colore rosso. Ti ricordo di iscriverti al mio canale, a tutti i miei canali, al mio nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco, ma anche a tutti gli altri miei canali, ovviamente. Vediamo il colore rosso, allora. Diciamo che questa persona è una persona che troverai, che sarà molto semplice nella tua vita. e sarà la sua semplicità a piacerti, sarà la sua semplicità a coinvolgerti. Questo devo dire che è anche molto, molto bello, molto interessante. Ti darà un'energia molto forte che tu potrai sviluppare, quindi un amore che si presenta bene. E per te rappresenterà veramente la rinascita, rappresenterà veramente il cambiamento, un cambiamento positivo che tu potrai vivere tranquillamente, superando tutti i gravami, superando tutte le situazioni inico e che finora ti sei portata sul groppone fondamentalmente. Dovrai imparare a superarle completamente. E acquisire fiducia. Ecco, questo sarà una bella storia. Vediamo che tipo di persona sarà. Allora, sarà una persona molto forte, una persona che ama lottare. Potrebbe essere, beh, un imprenditore, eventualmente un militare. potrebbe essere comunque una persona che ama la lotta, quindi proprio l'impegno. Sì, questa è una persona importante. Una persona che si vive il momento per il momento, quindi anche tu dovrai imparare a diverti attimo per attimo senza pianificare eccessivamente. Le pianificazioni poi alla fine non portano da nessuna parte. Quindi questo è molto importante. E sarà una persona che è nuova, una persona, un outsider, non una persona che conosci, ma a qualcuno che verrà nella tua vita, entrerà nella tua vita, ma che tu prima non conoscevi. Ed è una persona che, diciamo, ti porta, diciamo, non è una persona benestante. Questa è l'unica pecca, forse, fondamentalmente di questa persona. Però ti permetterà di vivere tranquillamente un sogno, vivere le tue energie. Quindi una persona molto romantica. Quindi una relazione che andrà avanti nel tempo, ovviamente come tutte le cose può finire, però una persona molto romantica con la quale entrerà in contatto. Potrebbe essere un militare oppure una persona che ha comunque caratteristiche di marzialità. Bene. E i tempi sono, vediamo un attimino, i tempi sono medi, medio-lunghi, diciamo. Comunque, diciamo, da uno a tre mesi farai questa conoscenza. Bene. Iscriviti al mio canale YouTube Massimo Terramasco. Nel frattempo è anche esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco e passiamo al colore blu. Mentre tu ti iscrivi, passiamo al colore blu. Quindi, anche qua, devi rallentare. Stai correndo troppo, se corri troppo rischi di prendere l'uccele per l'antenne. Mai correre troppo. Questo è fondamentale. Impara a rallentare perché ne innamora la fretta cattiva consigliera. Se tu insisti, se tu corri, ebbè, non otterrai grandi risultati. e se andrai piano lentamente troverai sicuramente un'apertura proprio nella persona che ti interessa. Questa è una persona che già conosci, che probabilmente prima non si era manifestata disponibile, ma che adesso inizierà a dare più disponibilità. Si percepisce proprio questa disponibilità e si percepisce anche una trasformazione. Quindi un cambiamento profondo che avviene dentro di te e che ti porterà a nuovi nuovi benefici. Molto importante questa cosa e vedrai che le cose riusciranno ad andare. Devi però farlo con la voglia di sperimentare, non con gli attaccamenti perché gli attaccamenti non ti portano proprio da nessuna parte. Cerca di sperimentare e vedrai che le cose andranno per il meglio. E che persona è? Una persona che ti dà molte emozioni, una persona che è molto istintiva, probabilmente una persona emotiva, non è una persona iperologica, è una persona che ama proprio la vita e anche però ha una forte comprensione. Ti vede un po' come un uccello in gabbia, un po' imprigionato. Però è una persona che ha una forte energia, potrebbe essere un leader, un guru, oppure anche semplicemente una persona comunque realizzata con se stessa con se stessa e che ha anche una forte morale. Quindi queste sono le caratteristiche di questa persona. Bene, per questo video è tutto. I tempi, qua i tempi, dimenticavi i tempi? Allora, è un rapporto pieno, quindi i tempi sono abbastanza brevi, circa tre settimane per conoscere, poi per completare il cerchio ci vogliono anche 7-14 settimane. Quindi nel giro di un paio di mesi, due o tre mesi, dovresti riuscire ad aver realizzato il tutto. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti a tutti i miei canali YouTube attivando la campanella così riceverai anche la notifica dei nuovi video.